Siamo con il professor Agostino Labella, ordinario di Ingegneria Economico-Gestionale all'Università Tor Vergata di Roma presso la Facoltà di Ingegneria. Il professor Labella è la figura professionale che ha supportato Promofarma nello sviluppo della piattaforma che oggi è a disposizione dei farmacisti per la gestione dei dati in relazione alla nuova normativa europea sulla privacy. Qual è stato il suo tipo di supporto dato a Promofarma per implementare la piattaforma? Il supporto è stato essenzialmente quello di identificare la struttura di base della piattaforma, i requisiti funzionali in termini di processo. Il GDPR ha come concetto fondamentale l'organizzazione, piccola, grande che sia, vista per processi dove ogni processo comprende degli azioni che portano a un risultato, hanno degli obiettivi e hanno soprattutto una persona che ne è assolutamente responsabile. Questo è il principio di base su cui poi abbiamo impostato lo sviluppo della piattaforma. Ovviamente l'obiettivo sarà stato quello di mettere a disposizione del farmacista uno strumento facile e accessibile. Certo, noi come diciamo noi, semplicity by design, cioè la semplicità come criterio di progetto. E poi soprattutto il supporto all'utente in termini di call center, di assistente virtuale, quindi un chatbot, una intelligenza artificiale che impara nel tempo sulle domande e quindi diventa sempre più precisa nel dare delle risposte e assistere l'utente nella risoluzione dei problemi. Poi il codice di condotta che stiamo collaborando a sviluppare, che permetterà delle semplificazioni notevoli dal punto di vista della compliance e che addirittura in caso di procedimento genera una presunzione di conformità. Quindi una cosa molto utile dal punto di vista del farmacista. Quali sono i punti chiave della normativa che poi sono stati tradotti dentro la piattaforma? I criteri fondamentali della normativa sono essenzialmente tre. La privacy by design, cioè la privacy come criterio di base della progettazione non solo dei sistemi informatici ma di tutta l'organizzazione. La privacy by default che consiste nel trattare il minimo indispensabile, l'insieme minimo indispensabile di dati necessari per il trattamento. E infine il concetto di accountability che è un concetto molto importante, molto più in italiano viene tradotto come responsabilizzazione ma è molto di più, vuol dire capacità di rendere conto, vuol dire anche implicare l'eticità del trattamento, l'affidabilità e la trasparenza. Per concludere professor Labella, da ingegnere gestionale quale lei è, vogliamo trasferire un messaggio ai farmacisti regato al fatto che questo non sarà un onere ma deve essere vissuto come anche un'opportunità? Certo, è un'opportunità perché dobbiamo tutti essere consapevoli che i dati sono una ricchezza, i dati sono un patrimonio, dobbiamo abituarci a considerarli come tali, quindi conservarli nel modo giusto, trattarli nel modo giusto nel rispetto ovviamente dei diritti delle persone. Dobbiamo anche però fare in modo, e questo è stato essenzialmente il mio lavoro, dobbiamo fare in modo che tutto questo non si traduca in un eccessivo appesantimento sulle spalle di professionisti che operano in un settore che ha altri obiettivi e che soprattutto si basa su delle competenze professionali molto particolari, quindi massima semplificazione delle procedure e massima garanzia anche per il cittadino e per i diritti degli interessati al trattamento dei dati. Grazie professor Lavella. Prego, grazie a lei.